Giorni di fibrillazione in casa PD, superata da qualche mese la metà della legislatura, è stata convocata per il fine settimana all'Assemblea regionale del partito. In agenda l'analisi delle scelte fatte, i risultati raggiunti, i rapporti col governo, l'andamento delle riforme e le questioni aperte. Su quest'ultimo fronte non sono pochi infatti i nodi da sciogliere, uno su tutti il rimpasto di giunta con la nomina del quarto assessore regionale. Interpellato sull'argomento, il governatore Paolo Frattura preferisce mantenere riservo. In poll, il consigliere Carlo Veneziale è subentrato in consiglio al posto dell'ex assessore all'attività produttive Massimiliano Scarabeo, sospeso dalla carica per effetto della legge Severino. Misura però revocata dal giudice del Tribunale di Sernia lo scorso 30 dicembre in accoglimento dell'istanza presentata dai suoi legali, consentendo così il suo ritorno a Palazzo Moffa nella seduta che dovrebbe essere fissata per la prossima settimana. Che le acque siano agitate lo dimostra anche l'ultima noto a firma del vicepresidente Michele Petraroia che smorza i toni. Non è saggio attardarsi sulle incomprensioni maturate nella coalizione e nel partito a seguito dei posizionamenti congressuali del febbraio 2014, l'esortazione di Petraroia. Ma è utile individuare una progettualità che sappia fare sintesi fino alla scadenza della legislatura regionale. Ridurre il confronto sulle assetti amministrativi o alla semplice definizione delle coalizioni e delle candidature per le prossime comunali, prosegue, non agevolerebbe un cambio di passo. Occorre misurarsi sulle strategie di ampio respiro, sui nodi di questa fase e sulle scelte politiche più significative per giungere, pur nella distinzione dei ruoli e dei posizionamenti interni al PD, ad una condivisione di metodo e di merito sulla funzione del partito, conclude la sua nota stampa.